Io penso che il museo del fascismo, cioè il centro studi sul fascismo e il totalitarismo che ha un nome, deve far parte di questo circuito. A parte il fatto che questo start-up è stato possibile, lo start-up perché la regione ci ha messo una cifra cospicua di risorse e pensiamo, speriamo che continui a mettercene, ma anche perché è ovvio che quel museo sta dentro i progetti memorialistici della regione, anzi è una novità in rapporto a una museografia che ha preso in considerazione quasi esclusivamente la resistenza o la repressione e la distruzione degli ebrei. Dentro questa rete di musei è logico che ci stia anche il museo del fascismo, perché nei percorsi memoriali questo è in qualche modo l'antefatto di quello che poi stanno facendo, continuano a fare i musei della resistenza, i monumenti ai caduti, le iniziative resistenziali, i partigiani, il ricordo delle vittime, eccetera. Fa parte di quella storia lì.